Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo le stelle e i pianeti per scoprire cosa riservano per voi. Segno ariete. L'ariete inizia la giornata con un'energia contagiosa, ma potrebbe incontrare qualche difficoltà nell'interazione con gli altri. Sul lavoro, le cose procedono positivamente, mentre la sfera spirituale rimane un po' trascurata. L'amore oscilla tra alti e bassi, e la situazione finanziaria richiede attenzione per evitare spese inutili. Per evitare lo stress, è importante mostrare flessibilità sul lavoro. Oggi non è un giorno particolarmente fortunato. Mercoledì si preannuncia come un giorno ricco di imprevisti. La luna vi esorta a vivere le ore con leggerezza, perché mantenere l'equilibrio nella vostra relazione non sarà semplice. Affrontate le sfide con pazienza e determinazione per ritrovare una sintonia con il vostro partner. Lavorate insieme per costruire un futuro di armonia e complicità. Se siete single, è il momento di riflettere su voi stessi. Accettando le diverse prospettive, potrete trasformare le relazioni difficili in opportunità, aprendo la strada a una maggiore armonia e serenità. Sul lavoro, non c'è spazio per l'indugio, agite con decisione e fermezza. Segno Toro. Le giornate di Toro sono un caledoscopio di esperienze diverse, con momenti di gioia e momenti di difficoltà che si alternano. Non cambiare ciò che funziona, ma concentrati su ciò che necessita di attenzione. Stanchezza e mancanza di energia potrebbero essere presenti, e la fortuna sembra non essere dalla vostra parte. Tuttavia, la situazione finanziaria è solida e promette stabilità. Il consiglio è di non forzare le cose, ma di aspettare che la situazione si stabilizzi. Un mercoledì davvero positivo si prospetta per voi. Riuscirete a raggiungere un obiettivo significativo con il vostro partner, grazie alla vostra abilità comunicativa e alla rinnovata disponibilità del vostro amato a venire incontro alle vostre esigenze senza conflitti. Questo dialogo aperto e sincero rafforzerà il vostro legame, portando maggiore armonia e comprensione. Se siete single, sarà necessario dimostrare grande volontà per superare anche le situazioni meno piacevoli. Serviranno ottimismo e capacità di adattamento, ma se aprirete il vostro cuore all'amore, non resterete delusi. Sul lavoro, potreste scoprire nuove alleanze con i colleghi, superando le difficoltà e aprendo la strada a una crescita personale e a risultati positivi. Segno gemelli. L'oroscopo di mercoledì promette grandi emozioni in ambito amoroso per molti di voi. Sarete travolti da una passione intensa, quella che non si può descrivere ma solo vivere appieno. Vi aspettano momenti di grande sorpresa e il desiderio si riaccenderà, permettendovi di ritrovare armonia e complicità con il vostro partner. Se siete single, apritevi a esperienze che vi porteranno a una maggiore consapevolezza di voi stessi e degli altri. Potrete vivere una giornata indimenticabile in compagnia di persone che condividono i vostri valori, facendovi sentire compresi e apprezzati. Sul lavoro, è il momento di fare un bilancio finanziario accurato. Investendo saggiamente e pianificando con attenzione, garantirete una crescita costante nel tempo. Sorprese e sfide caratterizzano la giornata dei gemelli, che dovranno dimostrare astuzie e capacità di adattamento. La vostra intuizione è particolarmente acuta oggi, ma fate attenzione alla vostra situazione finanziaria, che potrebbe richiedere un'attenta gestione. Ritardi o imprevisti potrebbero ostacolare i vostri progetti lavorativi. In compenso, l'amore vi regala coccole e comprensione. Prendetevi cura della vostra salute, un po' di riposo può fare miracoli. La fortuna è un'amica capricciosa, a volte vi aiuta, altre volte vi abbandona. Segno cancro I cancro affrontano una giornata con alti e bassi in diversi ambiti della vita. La fortuna non è un alleato oggi, ma l'amore vi sorprende con momenti positivi. Sul lavoro, ci sono sfide da superare, ma è importante dosare le proprie energie con saggezza. In ambito economico, è necessario essere prudenti e attenti alle spese, poiché l'instabilità potrebbe essere presente. Per chi è in coppia, un periodo di stabilità e dolcezza si prospetta, mentre per i single che non cercano un impegno serio, potrebbero esserci opportunità di flirt. Amore e sentimenti saranno al centro della vostra attenzione. Una serie di emozioni positive vi porterà a vivere momenti di grande felicità. In compagnia del vostro partner, vi sentirete al settimo cielo, con il cuore e i sensi pienamente appagati. Se siete singole e avete incontrato qualcuno di speciale, non esitate a esprimere i vostri sentimenti. A breve, ritroverete una serenità che non provavate da tempo, quindi godetevi appieno questa situazione. Le entrate finanziarie saranno buone, soprattutto per chi aspetta la conferma di un contratto o l'avvio di una nuova collaborazione lavorativa. Non perdete di vista un progetto a cui tenete da tempo, potrebbe rappresentare l'opportunità tanto attesa. Segno leone. Un'ondata di energia vitale vi accompagnerà, garantendo notti tranquille e rigeneranti. Tuttavia, la prudenza è d'obbligo sul fronte finanziario, che richiede attenzione e cautela. Sul lavoro, la comunicazione potrebbe risultare difficile, ma la perseveranza vi condurrà verso una soluzione. L'amore oscilla tra momenti felici e delusioni, mentre la fortuna sembra avervi voltato le spalle. Nonostante ciò, mantenete la fiducia e procedete con saggezza in ogni ambito. Un periodo abbastanza positivo e gestibile e senza problemi. Sarete pronti per nuovi inizi, intraprendendo un percorso diverso con il vostro partner. Gli astri saranno dalla vostra parte, quindi fidatevi dell'idea che l'amore sia al momento il miglior investimento per una relazione appagante, godetevi la vita serenamente. Se siete single, è il momento di lasciare andare i dubbi legati al passato e di aprirvi a nuove opportunità. Dopo tanto tempo, il buon umore tornerà, permettendovi di affrontare la vita di tutti i giorni con positività. Sul lavoro, non conta solo il profitto, ma anche la gratificazione che ricevete dagli altri. Questo vi darà la carica necessaria per andare avanti con successo. Segno Vergine L'oroscopo di domani, 3 luglio, promette un mercoledì positivo, ma non troppo. Il partner vorrebbe vedervi più energici, ma voi desiderate principalmente relax. Tuttavia, riuscirete a trovare un compromesso per il bene della relazione, trascorrendo del tempo insieme che soddisfi entrambi e rafforzi il legame. Se siete single, sarete passionali e privi di pregiudizi, senza regole se non quella di godere pienamente delle esperienze che vivrete. Non sarà un problema uscire dalla routine abanzi, farete di tutto per allargare i vostri orizzonti e vivere nuove avventure. Sul lavoro, è il momento ideale per avanzare richieste e portare avanti le vostre esigenze. All'orizzonte potrebbe esserci un'opportunità davvero interessante per il futuro, sfruttate ogni opportunità che si presenta. Le stelle offrono un sostegno parziale, lasciandovi padroni del vostro destino. I rapporti interpersonali potrebbero essere tesi, soprattutto in ambito amoroso, dove potreste dover affrontare una sfida. La vostra intuizione, però, vi guiderà verso le scelte giuste. Sul lavoro, tutto procede regolarmente, ma è necessario prestare attenzione alle finanze. Approfittate dell'energia vibrante di questo giorno per realizzare i vostri obiettivi. Segno bilancia. Il terzo giorno della settimana attuale si preannuncia impegnativo, con schemi astrali non favorevoli per il segno. Attualmente, vi trovate in una fase di cambiamento. Potreste incontrare sia opportunità che sfide, con verità importanti che emergeranno entro la fine del mese. In amore, chi è in coppia dovrà agire con cautela. Nonostante abbiate preso decisioni su questioni significative, ricordate che il partner potrebbe non essere d'accordo con scelte fatte unilateralmente. Se è così, intervenite per correggere la situazione e prevenire problemi. Se siete single, le stelle non sembrano generose al momento. Potrebbe essere saggio prendersi una pausa, lasciando ad altri l'iniziativa su certe azioni. Sul lavoro, la luna dissonante potrebbe portare tensioni. Sarà essenziale gestire bene le risorse e pianificare con attenzione per il futuro. Una giornata contraddistinta da alti e bassi. In amore, un senso di disagio vi attanaglia, senza una chiara ragione. Fortunatamente, la situazione finanziaria è stabile. Il lavoro richiede massima concentrazione e precisione, ma la distrazione e la mancanza di energie potrebbero ostacolarvi. La fortuna potrebbe offrirvi un aiuto inaspettato. Segno Scorpione. L'oroscopo indica una giornata normale. Più di qualcuno dovrà prendere decisioni importanti in amore o nel lavoro. L'intuizione vi guiderà verso un equilibrio stabile nella vita privata, anche se richiederà uno sforzo extra. Mantenete un atteggiamento positivo e accontentatevi di ciò che avete a disposizione. In amore, chi è in coppia dovrebbe esprimere apertamente i propri desideri al partner, che potrebbe essere più che disposto a soddisfarli. Se siete single, la vita amorosa sarà caratterizzata da una vitalità esuberante. Approfittate della bella stagione per vivere momenti di intensa passione. Sul lavoro, la luna stimolerà la vostra creatività e il desiderio di rinnovarsi. Collaborate con persone di cui vi fidate pienamente. Le stelle riservano sorprese, sia positive che negative. La fortuna sembra avervi voltato le spalle, lasciando presagire imprevisti. Evitate decisioni finanziarie avventate, non è il momento di correre rischi. L'amore vi farà vivere un turbinio di emozioni, mentre il lavoro richiede impegno e dedizione. Nonostante un panorama planetario sfavorevole, la vostra energia vitale vi sosterrà. Segno sagittario. La comunicazione scorre fluida, sembra che tutti vi comprendano, c'è grande affinità. È importante fare attenzione alle finanze per evitare situazioni precarie. Poco fortuna sembra presentarsi dalla vostra parte. Sia sul fronte lavorativo che su quello amoroso, è necessaria molta pazienza. Non lasciatevi guidare dagli istinti, ragionate, sappiate attendere e vedrete che la fase critica non tarderà a passare. La vostra energia è al massimo, approfittatene anche per migliorare il vostro benessere fisico. Il periodo astrale è eccezionale, privo di configurazioni planetarie complesse. Lasciate che la luna influenzi positivamente la vostra giornata. Questo mercoledì, l'astro d'argento promette dinamismo sia in famiglia che tra amici. Per chi è in coppia, è il momento ideale per prendere in mano la relazione e portarla a nuove vette di perfezione. I single troveranno segnali astrali incoraggianti. Molti di voi si sentiranno al massimo delle loro energie, mai così vivaci, appassionati e creativi. Questa vitalità si rifletterà positivamente anche nel lavoro e in altri ambiti della vita, impressionando positivamente chi vi circonda e portando a guadagni di prestigio e prosperità. Le circostanze sono estremamente favorevoli per il successo. Segno Capricorno L'unica nota positiva di questa giornata sembra essere il lavoro, che procede in modo interessante, anche se non si intravedono promozioni o grandi guadagni. La salute e la situazione finanziaria potrebbero migliorare, meritano la vostra attenzione. L'amore è fatto di alti e bassi, e la fortuna sembra non volersi mostrare, quindi è fondamentale fare un'analisi introspettiva per capire cosa è meglio per voi e come potreste comportarvi diversamente. L'energia è alta, e in momenti critici come questi va distribuita equamente. Il mercoledì in arrivo sarà molto favorevole, con una fortuna sentimentale e una passionalità alle stelle. Questa positività renderà molti di voi particolarmente brillanti e simpatici. In amore, lasciatevi guidare dalla fantasia per ravvivare la vostra relazione. La vostra vivacità e il vostro entusiasmo saranno contagiosi, coinvolgendo il partner nei vostri progetti. Per i single, è il momento di esplorare nuove amicizie e riflettere sulle motivazioni che vi spingono verso nuove conoscenze. Sul lavoro, mantenete la calma. Gli impegni richiederanno attenzione, ma con un approccio meno severo verso voi stessi, raggiungerete i risultati sperati. Segno Acquario. Questa parte della settimana si presenta molto positiva, con un mercoledì in armonia con i vostri piani. Sfruttate questo periodo di tranquillità per dedicarvi a ciò e a chi vi sta a cuore, senza esagerare. In amore, la comunicazione con il partner migliorerà notevolmente. La vostra buona volontà e pazienza renderanno il rapporto quasi perfetto. I single saranno stimolati dalla luna a essere più socievoli e aperti verso le persone care, incontrando novità entusiasmanti e speciali. Nuove conoscenze interessanti vi distoglieranno dalle solite preoccupazioni e apriranno vasti orizzonti per il futuro. Sul lavoro, la vostra astuzia vi permetterà di ottenere risultati che supereranno le aspettative. È difficile definire il vostro percorso, alternate vittorie e cadute. La fortuna non è il vostro punto di forza, raramente si manifesta quando serve, anche l'amore è altalenante. Insomma, non c'è equilibrio in molte situazioni della vostra vita. Fate affidamento sulla vostra intuizione, che vi farà brillare in situazioni imprevedibili. Ci sono alcune sfide in più da affrontare sul lavoro, ma se sarete molto determinati ne uscirete vincitori. L'energia è buona, ma le finanze potrebbero essere curate meglio. Segno pesci L'oroscopo di mercoledì 3 luglio indica un periodo impegnativo ma fruttuoso, specialmente in famiglia dove ci saranno sviluppi positivi. Durante la mattinata, potreste sperimentare qualche tensione con il partner, ma le turbulenze in amore si risolveranno nella serata, quando avrete un confronto diretto. Per chi è in coppia, è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. I single potrebbero trovarsi all'inizio di una situazione sentimentale già nota e devono fare attenzione a un possibile ritorno di una vecchia fiamma. Sul lavoro supererete diversi ostacoli, e ora è il momento di concentrarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Non riuscite a ritrovare voi stessi, manca anche una comunicazione fluida con le persone che vi circondano. Quello che dovete fare è agire distinto, perché la vostra intuizione è al top e può aiutarvi a uscire da situazioni difficili. In amore vi attendono piacevoli sorprese, ma fate maggiore attenzione alle finanze. Il lavoro procede senza infamie e senza lode, mantenete la calma quando entrate in discussioni che potrebbero sfociare in polemiche dannose. L'energia è un po' allattitante, proprio come la fortuna che sembra nascondersi letteralmente.